Ehm... Ah, va bene, dai So già che sarà un reddit di merda Il reddit si mette dal primo post, grazie già Dal post più votato, se è una merda vuol dire che è un reddit di merda Il tipico problema dei modificati, immagino Grazie, boh Ma anche io mando tutti i sticker di rane, eh Anche, ogni tanto me ne mandi proprio di boomeraischi, tu, eh Di sticker? Ma di rane? O di sticker? No, di sticker, tipo quello con la tua faccia In modalità trololo Quelle erano delle prove di emote che mi ha dato Rise Ed era per fartela vedere, non era un... Ah, e allora è una merda Ti rispondo adesso In realtà era carino No, ci parliamo molto spesso così E poi utilizzo anche le emote, cioè gli sticker, quelli preset di Samsung Molte volte No, Andrea Non si possono più fare queste battute Ma era il 2015 Ah, era il 2015 Però mi piace questa fila ironica che avevo È carina Era carina Ora quel... È morta Grazie, Franci Ora che ci penso che ho di aver dimenticato qualcuno nella presentazione dell'appuntamento Se te lo sei dimenticato, significa che non era importante Sì, hai ragione No, mi fa un po' tenere... Mi fa un po' tristezza Eh, vabbè Grazie, Chonix Minchia, 900 volt Ma cos'è? Ah, no Ah, no 98% È piaciuto al 98% delle persone Vuol dire che qualcuno Grazie, ballerino Vuol dire che qualcuno l'ha dislegata Va bene, grazie però, amica Grazie Alberto Così sono Grazie a Villa Alberto, però amica Wolfiore Ancora più drammatico Ferretti Oh Manca la... Ha un problema ancora più drammatico Ferretti Manca la fregna Eh? La fregna La fregna, Ferretti La fregna 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 Perfetto Grazie Capitan Joystick Calziamo a pennello in Boris Boris è infatti Veramente il nostro scenario E non facendolo apposta Mi sa che mi riguarderò Boris L'avevo già visto Grazie Lisa Ma probabilmente me lo riguardo Però mi sembra che una stagione non sia così bella Mi sembra tipo la seconda Ma diciamo Sì alti e bassi Ma i picchi sono incredibili Sì sì L'appuntamento del rubino delle tartarughe What? Amore mio come stai? Ciao rubino Io ti porterei Ti porterei ascolta Allume di candela Parliamo di noi due E poi No le porti a casa Ah certo E te porto a casa E tu te porto scusami caramie No prima ti porto a casa È normale Sta bugiona Ma che stai a far? Ricordate che i squali Stanno arrivà Grazie Grazie random jack Se ne vuoi fare altri con il giallo delle tartarughe rubino secondo me fanno molto ridere Grazie mille random jack Mi ha fatto molto ridere Quando il giullare porta delle ragazze in live Modificati Instagram della ragazza Ok Grazie mille Grazie fa Live dalle 21 alle 23 Live dalle 23 a mezzanotte Live da mezzanotte alle 4 Max Power Dinamico Non trovi caro Grazie Max Hai cambiato il tuo nome senza consultarti È così fatto Max Power Deciso niente compromessi e un po' ruzzo Ecco Ruzzo Aspetta un momento Il nome di famiglia è l'unica eredità che ti lascio Io l'ho ereditato da mio padre E lui l'ho ereditato da suo padre Il bisnonno poi l'ho avuto In cambio di un asino E così na quel detto qui casca l'asino Ma questo creerà una grande confusione Il postino non saprà più che fare Hai pensato minimalmente al postino prima di agire? Sì Brevemente E riguardo a quel tatuaggio sul mio tu sai cosa? Oh tesoro Ci sono acidi che li bruciano via Che problemi? Ma io mi sono innamorata di Homer Simpson Non voglio coccolarmi Max Power Nessuno si coccola con Max Power Mi allacci la cintura e ti becchi e brevidi Caspiterina E non finisce in camera da letto Oh no Le ereditini li prendo io Ragazzi Ragazzi ci sono tre modi per fare le cose Il modo giusto Il modo sbagliato O il modo di Max Power Non è il modo sbagliato quello Ma più svelto Max Power Non è che i Simpsons prevedono Max Power Ciò che non ci meritiamo ma di cui abbiamo bisogno Grazie Ivan Simone Ok Simone A quanto pare mi ha attaccato alla porta Anche una frase con scritto Lion è il mio re Ah Mi sembra un bel messaggio Va bene Lo lascerò attaccato finché Max Power non verrà a casa mia a toglierlo Ma si legge praticamente Solo Lion Lion è il mio e poi potrebbe essere Di tutto quindi Comunque non l'ho capito Sto meme io Aspetta te lo faccio vedere Ma è stata la mia babysitter Forse Forse ricorda mio padre Leonardo Marra Oddio Incredibile caramba che sorpresa Apriamo la busta Maria Oh mamma mia Sono città rosa Sì lo sapevo io Un momento epico per Twitch Aspettavo da anni di dirglielo Oh mamma mia Ma già ho le lacrime Come stai? Bene mi sembra Bene bene Hai fatto il tatuaggio? No più di uno Nonostante Dove te voglio lasciar solo un attimo però Pure l'orecchina A me due orecchini Guarda ora Guarda ora Ma che roba Ma anche qui Anche qui Anche qui in realtà però Magari vediamo Ma io pure la notizia a sto punto Davide Che è? Ha fatto pure il forno Virginia Ha fatto pure il forno Gialluna No Gianluca Ma che è stato un uomo? Quest'uomo Ma che sta a fare? Dite andrà via Vabbè i miei conquilini Sanno un macello Questo per esempio È un danno Della scuola dell'obbligo Dell'istruzione che ha fallito Esatto No comunque Davide Davide sarà papà Virginia Era questa la notizia Davvero? La segno Eeeh Che bello Ma quando Scusate Questo è un attimo Non lo so Non si può fare il forza Ma quando nasce? Vabbè A luglio Questa cosa è venuta fuori È pubblica Si chiamerà Asia Sì sì A luglio Bene Ah una cancerina Sì Ottimo Un leone Forse leone Buono E allora sono io leone Come me Quella barba E quei capelli Asia Cosa? Ma si è trasformato Da Una roba immagino Semi professionale Super professionale Super professionale Era Super professionale Gabriele Lentino Io l'ho vinto E poi All'improvviso È diventata una roba Di Oh Che bello È tutta la cena Le cose La trattoria La famiglia Mentre qua Obansky Che sta lavorando Enjoy due mesi Ivan Grieco Cos'è? Vediamo un po' Unico Re Padrone Ok Mentre Obansky Che lavora sotto casa Scusatemi Ma Lo sai che Se fai pagare Quello spot Guadagni un sacco di soldi Che venissero Che venissero Comunque dai Ultimi Guardiamoci gli ultimi due Perché non voglio far aspettare Troppo gli altri E poi ci spostiamo Su streamlabs Su streamelements Su streamyard Perfetto Le provate tutti C'è stato rubi Invorticato Non male Un po' Un po' Mi piace Un tentativo di Un po' Eccomi Io Roazzi Roberta Branchini Skrillex Il mio amico Fan Quello di tante storie Delle storie di Skrillex E il pagate Mark Di Mark and Cremont Grazie Super chad In questa foto Ecco Obansky Arrivato in casa mia No No Simone Cosa Spionaggio industriale Watch time Panetti Watch time Dada Ah si Ho messo il watch time Di Dada Perché Mi sembra che Era Affine Come la sua Chatta La mia Mi piace La chat Di Dada E poi mi sono Autorisposto Solo con il Poggers Di parlo Con nome Perché sapevo Che qualcuno La ripostava Nel reddit Lo sapevo Lo sapevo Lo sapevo Perché Ma questo In off live Perché off live C'è Pox Che fa dei mostri Cosa C'è Ma perché c'è tanta gente Ragazzi Se voi guardate la chat Se voi Anche mentre non sono in live Guardate la chat C'è gente che fa cose Che mema da solo Che fa cose Che parla Si allena Si allena Memare Per la sera Si 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 Simone Dieci giorni Ha speso Ok Entriamo Entriamo Siamo pronti Grazie Per me Siamo pronti Grazie Per me Eccolo Doveva essere continuato Cosa Non parlo più ragazzi Che doveva essere continuato Ce lo guardiamo dopo Anzi Guardiamo E poi ci siamo Ok Ci spostiamo ragazzi Allora Ciao